Giovedì 16 giugno, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori a tutti voi a questo appuntamento ormai fisso, consueto del mattino. Ci sono persone pensate fedelissime che ci seguono da dieci anni, non hanno mai perso una puntata, una giornata, una rassegna stampa, quindi a loro questa mattina va il nostro pensiero, il nostro grazie. Allora il santo di oggi, lo vediamo subito, oggi è una santa beata Maria Teresa Scherer, è una santa che è vissuta nel 1825 è nata nel cantone di Lucerna, il sole è sorto alle 5.24 e tramonterà alle 20.53. Che tempo farà oggi? Possiamo dire che il tempo non avrà grosse precipitazioni, nel senso comunque ci sono un po' di nuvole questa mattina, non sarà un cielo terzo, bello, limpido, con il sole tutto il giorno, insomma da mare come ci si potrebbe aspettare il 16 di giugno, però sarà un cielo parzialmente nuvoloso, avremo questo transito di nuvole medio-alte in particolare al mattino, come in questo momento, possibilità di qualche isolato rovescio nelle prime ore della giornata e nelle zone interne, le temperature sono senza variazione di rilievo. Domani più o meno la stessa cosa, venerdì 17 con, vedete, nuvole ancora addensamente nelle zone dell'entroterra, ma con sforamenti anche lungo la costa, con temperature ancora in aumento, per la giornata di sabato 18 giugno non piove, però vedete questi nuvoloni, questi cumulonembi sopra gli appennini, ebbene avremo questi addensamenti più consistenti lungo il crinale appenninico nelle ore più calde della giornata. non avremo precipitazioni, le temperature sono senza variazione di rilievo, la giornata di domenica invece e lunedì sarà con probabile instabilità, il resto invece della prossima settimana vedrà un miglioramento delle condizioni meteo con instabilità pomeridiana solo nelle zone dell'entroterra. Ieri è stato inaugurato a Pesaro, in Viale Trieste, il nuovo albergo, quello di Filippetti, il proprietario delle Denviaggi, c'erano tutti, è stata una bella cerimonia e tutti a dire che siamo pronti per l'accoglienza, dunque va, rinasce la cultura dell'accoglienza. Avremo due quotidiani questa mattina, non c'è il resto del Carlino, cominciamo dal messaggero, il giornale romano con l'inserto pesarese. Intanto la notizia in apertura è che oggi per i pesaresi è il giorno del pagamento delle tasse, il giorno della stangata, scadono infatti oggi i versamenti per i mutasi e tari, oltre ad alti imposte. Il Comune incasserà 36 milioni di euro, l'assessore al bilancio delle noci però dice risparmi per le famiglie da 180-800 euro, il conto più leggero negli ultimi dieci anni. A centropagina ecco vedete il Nautilus, questo albergo tutto green, in legno, è nato l'hotel dei Record, inaugurato ieri pomeriggio, l'hotel di legno più alto d'Europa e questo è l'ingresso, vedete che bella struttura. Poi per quanto riguarda l'aggressione in parrocchia, il marito ammette, sono geloso e l'arresto è stato convalidato, l'uomo resta in cella, l'impegno del centro antiviolenza e parla questa mattina la responsabile. Poi sulla rapina al farmacista è stato condannato a tre anni di reclusione, 900 euro di multa, il rapinatore che ad agosto scorso ha colpito la farmacia San Salvatore e ha aggredito il titolare Claudio Mari che vedete in questa fotografia ancora incerottato sul volto. Palazzo Ducale invece a Urbino, il manager apre al pubblico un torricino, da oggi ogni giovedì si potrà salire sulla scala elicoidale e godere di un paesaggio mozzafiato e c'è da crederci. Ogni 20 minuti in un gruppo di massimo 15 persone a partire dalle 19.30 con ultimo ingresso alle 22.30 si potrà salire e vedere appunto questo paesaggio stupendo che dà sul Urbino. La pagina delle Marche invece del messaggero dedica spazio alla vicenda del biogas, ci sono le prime assoluzioni ma 19 indagati finiscono sotto processo. Scagionati gli imprenditori Paolo Pesaresi e Cristian Cesaroni, a giudizio i funzionari della regione e i proprietari degli impianti. Poi c'è stata una firma invece a Bruxelles dove i presidenti delle regioni toscana, Marche ed Umbria hanno firmato per avere un'unica sede, unire le forze e avere un'unica sede, immagino anche un po' per risparmiare qualche soldino, una sede a Bruxelles. Poi sullo sciopero invece dei Neturbini c'è stata una massiccia adesione ieri nelle Marche al secondo sciopero nazionale del settore igiene ambientale, secondo alcuni dati, le percentuali sono piuttosto alte, 95% ad Ancona Ambiente, 100% agli esi servizi e poi andiamo a vedere gli altri, ecco vedete Marche Multiservizi con Falconare, Pesore, Comuni Limitrofi, dovrebbe essere 85%, quindi 85% Marche Multiservizi e poi c'è anche Asetfano sotto buona adesione anche in altre aziende della regione, qui non ci sono i dati ma comunque ecco c'è il dato significativo comunque che c'è stata una buona adesione. Ecco la pagina del messaggero con Nardo Filippetti che è il proprietario dell'Eden Viaggi, raggiante mentre taglia il nastro, mentre vedete sullo sfondo c'è il sindaco di Pesaro, un momento dell'inaugurazione, insomma l'imprenditore dice speriamo di dare adesso un impulso alla consapevolezza del potenziale del nostro litorale. L'albergo di legno più alto d'Europa, eccolo qua, quattro stelle, ha anche un impianto fotovoltaico capace di produrre tutta l'energia di cui l'albergo ha bisogno. Addio ad un Freccia Rossa, parliamo del treno che è stato soppresso dal Trenitalia, i consiglieri regionali Minardi e Biancani hanno presentato un'interrogazione sulla cancellazione, la Camera di Commercio però chiede appunto il ripristino perché il sindaco se n'è uscito dicendo però era sperimentale quindi non potevamo sperare più di tanto nel senso che evidentemente Trenitalia ha voluto vedere se si ripagava diciamo questa fermata, in realtà così evidentemente non è stato e quindi fatti due conti hanno deciso di sopprimere questa fermata a Pesaro. Delitto di Ismaele, la verità di Ambera, questa ragazza che avrebbe scatenato la gelosia del fidanzato Igli Meta che vedete in questa immagine qua, mentre qui c'è il complice Mario Mema, la difesa di Igli depositerà le relazioni di un anatomopatologo e un criminologo per scaricare le accuse più pesanti su Mario, cioè su questo ragazzo qua. Igli è quello che ha il peso maggiore, è quello che secondo l'accusa avrebbe ucciso materialmente il povero Ismaele, solo che adesso lui cerca di scaricare su questo compagno tutte o molte delle responsabilità. Sarà chiesto alla procura di ascoltare di nuovo la ragazza appunto Ambera, l'avvocato Asole dice non per le sue responsabilità ma per l'attendibilità. Le perizie saranno consegnate entro il 22 giugno, giorno in cui si terrà l'udienza preliminare. E adesso la pagina di Fano del messaggero con la sanità sempre in primo piano e la voce che ieri ha alzato per l'ennesima volta il sindaco di Fano Massimo Seri. Dice e continua a ribadire che Chiaruccia, cioè l'area di Chiaruccia, è la scelta migliore dove costruire il nuovo ospedale. Noi confermiamo con forza la nostra proposta, la regione faccia valutazioni tecniche e oggettive, Pesero un buco nero. Cinque giorni dopo l'incontro con Ceriscioli, quello che c'è stato nella Sala Verdi, il primo cittadino batte i pugni sul futuro sito, chiedetelo pure a un urbanista di fama o ad un marziano, la risposta sarebbe quella, cioè costruire l'ospedale a Chiaruccia. È la scelta più logica, più razionale. Quello che dice Cecconi invece del Movimento 5 Stelle, deputato pentastellato, invita il governatore Ceriscioli a lasciare la delega alla salute, perché? Perché è tanto arrogante dice appunto Cecconi. Pierpaoli di Fano, città ideale al sindaco, il Santa Croce si è difeso a tutti i costi, come la sede ideale, la sede locale della Saipem, la multinazionale italiana dell'energia. Parla Dana Pierpaoli, che è consigliere d'opposizione appartenente alla lista. Fano, città ideale. E poi, l'altra notizia che troverete sulla pagina di Fano di oggi è sull'Esippo, il Getty Museum torna alla carica con la Corte Costituzionale. Adesso apriamo la pagina di Fano invece del Corriere Adriatico, anche qui la notizia, il richiamo forte, la posizione forte del sindaco di Fano Seri. Non vogliamo il nuovo ospedale di Pesero, il sindaco Alzeitoni contro Fosso Signore e contro Muraglia. Soluzioni inaccettabili oltre che sbagliate. La struttura unica non può essere sul mare o dentro le città, ma alle spalle delle aree urbane. Dunque ecco perché Chiaruccia ha tutte le carte in regola e dunque la rilancia, l'area migliore per viabilità e centralità. Non si ignorino le valli del Metauro e anche quelle del Cesano. Attenzione alle truffe telefoniche, alle richieste di dati bancari personali. Le segnalazioni corrono su Facebook, molti tentativi di truffare le persone chiedendo dati bancari personali registrate, denunciate attraverso Facebook anche nel nostro territorio. Nel Fanese, anche qui il Getty Museum, istanza del Getty rispinta, messi quasi tutti i testi e l'Isippo decise le questioni preliminari. Sopra il deputato Cecconi critica Ceriscioli, atteggiamento arrogante. Secondo il parlamentare così vengono mantenute le promesse elettorali alle lobby del settore della sanità. Anche la pagina di Pesaro del Corriere questa mattina dedica tutta la pagina alle 120 camere dell'albergo ecosostenibile che è stato inaugurato. Vedete qua la notizia, le 120 camere sono quasi il completo. L'architetto illustra la progettazione. È sotto tre anni al rapinatore di farmacie, rimasto vedove senza lavoro, ha scoperto il crimine a 67 anni, picchiò il farmacista Claudio Mari. Il titolare che lo inseguì rivelandosi decisivo per le indagini non ha chiesto i danni. Pensate, per compassione. Il marito geloso e violento si scatena per un equivoco, il GIP però lascia il marocchino in carcere. Il marocchino di 49 anni di professione muratore che ha aggredito sabato scorso a festa Pantano 85, dunque aggredito con un coltello, una lama di 20 centimetri, la moglie che stava lavorando, tra l'altro stava facendo volontariato in uno stand della parrocchia. La rassegna stampa finisce qui, vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata, ci vediamo stasera.